Mi chiedo chi vincerà il jackpot questa settimana. Che pensate del biondo Joseph? Nah, è troppo lento. Oh, c'è Arthur! Ma l'ultima volta quel debole fatico a portare il mio vassoio di cibo. In settimana c'è un test di scienze! È meglio scegliere uno sveglio. Fu lì che vedi Jace. Suo padre è l'autista della mia famiglia. Sì, quel nerd non mi deluderà di sicuro. Allora, sono Victor, ho 17 anni e sono ricco. Mio padre diede così tanti soldi a questa scuola che ha più potere del preside. Quindi anche se io combino guai, i prof sanno che è nel loro interesse chiudere un occhio. E guardate, non sono solo ricco, ma pure bello. Tutti mi vogliono come amico. Le tipe mi corrono dietro ogni giorno, ma purtroppo sto già uscendo con la più sexy della scuola, Jessica. Quanto ai maschi, è giusto che tutti potranno stare con me. Quindi ogni settimana ne scelgo uno per farmi le commissioni. Ehi Jace, auguri amico mio, è la tua settimana! Scusa, potresti sceglierne un altro? Jace disse timido, poi se ne andò. Cosa? Nessuno aveva mai osato rifiutare me! Gli tirai indietro la mano, ma mi rovesciò persino il succo! È troppo nerd, sei proprio morto! Il giorno dopo ero all'armadietto e dicevo ad Arthur di sistemare i miei libri quando senti Jace parlare con un amico del saggio di scienze. Dimenticai che dovevamo consegnarlo online entro mezzanotte invece che in classe. Lo so, farò mio il compito di Jace. Che genio! Quel pomeriggio disse alla prof di ginnastica che Jace era di turno, così lei gli fece sistemare la palestra dopo lezione. Intanto andai al suo laptop e copiai il suo lavoro. Bene, saggio fatto! Facile, facile! Giorni dopo la prof di scienze ci chiamò in ufficio e chiese perché i nostri compiti erano uguali. Ma ehi, l'ho consegnato per primo e l'avevo al guinzaglio. Così ovviamente ho ottenuto la mia A e Jace ha avuto una F. Dopo scuola Jace mi seguì fino all'auto e quando stavo per entrare mi saltò davanti e sbatté la portiera. Sei un falso! Mi hai rubato il compito! No, sono io a doverlo dire, l'ho inviato per primo. Sentendolo, il padre di Jace uscì dall'auto e si scusò con me per ciò che aveva fatto suo figlio. Dovresti sapere chi sei. Tuo padre è solo un servo, il che non ti rende nulla. Sorrisi. Poi strappai le chiavi dalla mano di suo padre e saltai in auto. Oggi torno a casa da solo. Ciao, spigati! Quel nerd mi rovinò l'umore e ora dovevo tirarmi su con del divertimento. Oh raga, quella festa fu fantastica! Attraversando un tunnel alzai il volume della musica e ondeggiai. Poi alzai lo sguardo e vidi un camion venirmi incontro, sterzai in tempo e mi schiantai contro la ringhiera. Cavolo, ma che... Borbottai, poi scesi dall'auto. Comunque lasciai l'auto lì e presi un Uber. Ma aspetta, perché tutti guidavano sul lato sinistro e non su quello destro? Forse il mix di alcol e vertigini mi faceva immaginare le cose? Apri gli occhi e allungai le braccia. Au! Non era camera mia. Da ubriaco avrò vagato nella casa ammalandata di qualcuno. Uscì di corsa e andai al piano di sotto per trovare i miei in cucina a fare colazione. Victor sbrigati o farai tardi. Oh e ricorda che dopo scuola aiuterai tua madre nella drogheria. Cos'è questo gioco di ruolo? Dove sono? Terrorizzato, corsi fuori a controllare. Cosa? L'indirizzo è corretto. 138 Riverside, ma... Casa mia era una magnifica villa. Cos'è questa topaia? Di sicuro sarà solo un sogno, giusto? Mi precipitai in casa e gridai. Mamma, papà, cos'è successo alla nostra villa? Figlio, stai sognando? Noi tanto ricchi da avere una villa. Questo è improbabile. Ora vai a cambiarti e ti porto a scuola. Impossibile. Era solo un incubo che spesso finisce quando si raggiunge un altro luogo, giusto? Forse tutto sarebbe tornato alla normalità a scuola. Oh, la scuola era esattamente la stessa. Ero così sollevato. Camminai lungo il corridoio e salutai le persone. Eh? Perché mi ignoravano? Si sono dimenticati chi è il capo qui? Ma vabbè, ecco la mia dolce Jessica. Andai da lei e la baciai sulla guancia. Ma... Mi toccai la guancia sotto shock. Mi girava la testa, poi di colpo qualcuno mi diede una gomitata da dietro. Era... Jace? Presi il suo colletto. Come osava prendermi in giro proprio davanti a Jessica? Giù le mani dal mio ragazzo. Questa settimana sei la scelta di Jace, controllati. Jace ha scelto me? Chi ti credi di essere? Uno povero come te non potrebbe avere una vita degna e frequentare questa scuola senza la mia famiglia. Guardati tu. Tesoro, ignoralo. Andiamo. Jessica gli prese il braccio e se ne andarono. Rimasi lì ammutolito. Che diavolo stava succedendo? Mi sentivo come in un universo parallelo. Mi diedi uno schiaffo per riprendermi. Vai! Perché non mi svegliavo da questo incubo? Tutto era iniziato con quel tunnel, vero? Se era alla porta per entrare allora era anche quella per uscire da questa follia. Così presi un taxi per tornare lì. Ma cosa? Dov'era il tunnel? Fece andare l'autista avanti e indietro qualche volta ma non c'era! Poi finii i soldi per il ritorno e l'autista mi lasciò lì. Sconcertato, vagai senza meta finché arrivai nella drogheria dove vidi mia mamma a lavorare. Caspita, mia madre! Chi ha sempre avuto dei domestici intorno ora doveva lavorare duro! Non potevo vederla così, quindi corsi ad aiutarla. L'indomani mi svegliai presto per scegliere un vestito decente per scuola. Beh, la vita deve andare avanti quindi mentre sono ancora qui dovrei fare la mia parte. Ma... Questa versione di me non ha alcun senso della moda. E guardate! Ora sono proprio un nerd! Devo cambiare un po'. Arrivato a scuola apri il mio armadietto e c'era una lista di ordini di Jace. Cosa? Pulire tutto lo sporco dalle sue sneakers? Era un'assurdità! Così getta il foglio nella spazzatura. Poi dal nulla Arthur lo raccolse e mi sussurrò all'orecchio Amico, ti consiglio di fare come dice Jace. Perché? È ridicolo! Per la pace! Non piace a nessuno ma siamo gentili con lui solo perché non vogliamo problemi. E vedendo Jace, Arthur si allontanò. Nei giorni dopo lo vedi coi miei occhi. La gente adulava Jace ma dopo sparlava sempre di lui. Camminava come se dominasse la scuola. Fece anche spellere un tipo perché lui lo segnalò quando Jace copiò ad un esame. Che tipo viziato! E Jessica era una cacciatrice di dote. Una volta la beccai a flertare con un tipo di basket. La senti dire anche, se Jace non fosse ricco non lo guarderei due volte. Per me è solo un banco Matt. Aspetta, se Jace lo pensava di Jace, allora pensava lo stesso di me quando stavamo insieme. Per tutto questo tempo Jace non ha mai avuto un vero amico, proprio come me, ma prima. In realtà era odiabile ma pietoso allo stesso tempo. Dopo notai che Jace mi lanciava occhiate civettuale. Non volevo problemi, quindi la ignorai. Poi una volta mentre ero in corridoio si avvicinò a me e urlò. Perché mi stai evitando? Nessuno mi ha mai rifiutato! Cercavo di starle lontano, poi dal nulla apparve Jace facendo i capricci. Che cosa c'è? Non ho potuto spiegare perché Jess si precipitò subito da Jace. Tesoro, lui continua a seguirmi, non mi lascia in pace. No, non è così, ti sta usando! Lo guardai impanicato. Parcheggio, 15 e 30, pagherai per aver provocato la mia ragazza. Poi i due si allontanarono mano nella mano. Così dopo scuola andai nervoso al parcheggio. Lui mi lanciò le chiavi dell'auto. Guida, ti conviene fare come ti dico, se no sicuramente vieni espulso. Non sembrava avessi molta scelta. Così andai con lui per scoprire cosa avrebbe fatto quel verme. Mi feci accompagnare a casa, molto semplice. Ma appena aprì la portiera apparve mio padre e poi lui supplicò Jace. La prego, non faccia espellere mio figlio. Papà, che stai facendo? Chiedigli subito scusa, qualunque sia il motivo. Papà mi guardò con occhi fissi. Jace soghignò contro mio padre. E se ti prendi la colpa così non viene espulso? Poi tirò dei soldi in faccia a mio padre. Sei licenziato! Gli gridai, non puoi maltrattare la gente solo perché sei ricco! Victor, basta, ti sbagli! La prego, ho salvato lei dall'incidente, quindi perdoni mio figlio. Poi papà tiro sui pantaloni per mostrare la gamba artificiale. Per la prima volta vidi papà piangere. Aspetta, mi ricordo cos'è successo l'anno scorso. Feci l'idiota con questo tizio e lui guidò apposta verso di me per vendicarsi. Ma il padre di Jace scattò in avanti e mi spinse via. So che era ferito gravemente, ma da non curante non pensai fosse un gran problema. Wow, ero davvero così cattivo. Mi aspettavo che tutti si inchinassero a me e pensavo tutti volessero essermi amici, ma in realtà non avevo amici veri. La mia testa stava per esplodere. Volevo scappare, così saltai in macchina e andai via senza pensare. Fermai l'auto quando lo vidi. Il tunnel che aveva cambiato la mia vita. D'improvviso questa luce accecante mi illuminò gli occhi. Un attimo dopo sia io che la macchina stavamo gravitando verso la luce. Eh? Dove mi trovo? Sembra un... ospedale! Poi sentì un urlo di gioia e qualcuno tenermi la mano. Oh, era mia madre! Grazie al cielo sei sveglio! Disse mentre le lacrime scorrevano. Mamma, papà, perché sono qui? E che giorno è oggi? Figliolo, è il 22 maggio. Sei stato in coma negli ultimi tre mesi. Non eravamo sicuri ce l'avresti fatta. Scoprì che quel giorno, tornando a casa dalla festa, nel tunnel ebbi un incidente d'auto. E finì in coma. Quindi quello che passai era solo un sogno, vero? Ma la cosa strana era che il tempo che avevo vissuto in quel mondo coincideva con il tempo in cui ero in coma. Gli universi paralleli potevano essere reali. Qualunque cosa fosse quell'universo, una cosa era certa. Avevo imparato la lezione. Dopo essere stato dimesso dall'ospedale, tornai ad essere Victor, il damerino. Non fraintendetemi, non ero più il me stravagante di un tempo, no. Ero cambiato. La prima cosa che feci quando tornai alla normalità fu rompere con la cacciatrice di Dot e Jessica. Ma quella affamata mi pregava ancora di tornare insieme. Che vergogna. Poi smisi di far fare agli altri le mie cose e iniziai a chiacchierare con loro invece di dare ordini. Ora restava solo una cosa da fare. Dovevo fare ammenda con Jace. Chiesi ai miei di dare un aumento a suo padre e di fare una cena questo weekend per invitare la sua famiglia. Perché stavo male per non aver potuto ringraziarlo per cosa aveva fatto per me l'anno scorso. I miei accettarono volentieri dicendo che erano fieri di me per essere stato maturo. Quindi sto preparando un regalo pacificatore per Jace. Credo che questo lo farà impazzire del tutto.